Pristina. I serbi sparano alla polizia al confine. Il Cremlino. I serbi non rimarranno indifferenti quando si tratta di un attacco diretto alle loro libertà, e si prepareranno a uno scenario militare. Sirene d'allarma mitrovica nuove tensioni sono sorte tra Kosovo e Serbia e c'è chi teme uno scontro armato fra i due paesi. I serbi non accettano le nuove misure varate da Pristina sul divieto, di documenti di identità e di targhe serbi in Kosovo a partire da lunedì 1 agosto. La Nato ha annunciato che è pronta a intervenire con la Cfor se la stabilità nel paese diventasse a rischio. Gruppi serbi fuori legge hanno aperto il fuoco contro la polizia kosovara al confine con la Serbia, lo ha detto il premier kosovaro, Albin Kurti, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa turca, Anadolu. La Serbia non è mai stata in una situazione così complessa e difficile, abbiamo avuto colloqui con rappresentanti dei serbi del Kosovo e Metuglia e cercheremo di mantenere la pace. Ma chiedo agli albanesi di cambiare la propria posizione e ai serbi del Kosovo di non cedere alle provocazioni, ha detto in un discorso alla nazione, il presidente serbo Aleksandar Vucic. Secondo l'agenzia Russatas, che cita il quotidiano Vekernenovosti, le forze speciali del Kosovo sono state spostate da Prisitina a Nord e a Metuglia, dove sono in corso le proteste dei cittadini serbi.In precedenza è stato riferito che la popolazione serba del Kosovo e Metuglia ha protestato sulle principali autostradi della regione, ha iniziato a costruire barricate, diverse dozzine di persone hanno bloccato, la strada principale fra Pristina e Rasca. Unità speciali della polizia del Kosovo, presenti per le strade, hanno iniziato a ritirarsi nei villaggi circostanti quando è iniziato il raduno dei cittadini.Sirene sono suonate nella parte settentrionale della città di Kosovska Mitrovica. Successivamente sono apparse informazioni su sirene suonate a Zubin Potok. Secondo i media serbi, circa 200 albanesi, si sono radunati sul lato albanese del ponte che collega il nord e il sud di Kosovska Mitrovica. La Russia chiede alle autorità di Pristina, così come agli Stati Uniti e all'Unione Europea, che le sostengono, di porre fine alle provocazioni e rispettare i diritti dei serbi in Kosovo. Lo ha affermato la portavoce del ministro degli estri russo Maria Zakharova. Chiediamo a Pristina, agli Stati, Uniti e Elue, che la appoggiano, di cessare le provocazioni e di rispettare i diritti dei serbi in Kosovo, ha affermato Zakharova in una nota riportata da Tasi Leader dei Kosovari. Sanno che i serbi non rimarranno indifferenti quando si tratta di un attacco diretto alle loro libertà, e si prepareranno a uno scenario militare, ha aggiunto Zakharova. La portavoce del ministero degli estri ha, anche sottolineato che un tale sviluppo degli eventi è un'altra prova del fallimento della missione di mediazione dell'Unione Europea. Questo è anche un esempio del posto che è stato preparato per Belgrado nell'Unione Europea, offrendo di fatto alla Serbia di sopportare la mancanza di diritti dei suoi connazionali. La Nato è pronta a intervenire nel nord del Kosovo con la sua missione Kosovo, FORCE, KFOR, qualora la sua stabilità sia a rischio, così una nota diffusa dall'Alleanza Atlantica in merito alle tensioni crescenti fra kosovari e serbi, scoppiate per una legge del Kosovo che vieta a partire da oggi documenti di identità e targhe serbi in Kosovo.La situazione complessiva riguardante la sicurezza nei comuni del nord del Kosovo è tesa. La missione KFOR guidata dalla Nato, sì, legge, sta monitorando da vicino ed è pronta a intervenire se la stabilità è a repentaglio, in base al suo mandato, derivante dalla risoluzione 1244 delle nazioni.